Ciao a tutti ragazzi da IOTA e questa sera iniziamo la missione numero 2 avviamo subitissimo in versione normale, avvia missione e aspettiamo il caricamento naturalmente il caricamento non ci sta tantissimo ma ci sta abbastanza veloce in teoria dovrebbe essere veloce in quanto è su un SSD quindi in teoria 960 Samsung, ops, pubblicità va bene, aspettiamo il caricamento infatti è quasi partito 2-1 e iniziamo con la missione numero 2, premiamo un tasto per la maggior parte c'era una strada scurita ma per gli orchi era una ricca bonti di valutare il orchi Gorguts è venuto a Cipres per evitare di questi ricchi stizzare verso gli orchi e ha demasio legato a uno dei dei funzionari locali ma meno credono che abbia piaciuto essere un servo per loro sui loro io voglio un'ho io voglio un'ho stop diventare, erano colchisci mmm il barca che stompano in questo caso è qualcosa di comodo ok perfetto questa volta utilizziamo gli orchi ok abbiamo gli orchi quindi selezioniamo subito q e saldiamolo perfetto grande personaggio fatto molto bene e iniziamo a distruggerli tutti un zoom per vederlo molto meglio ok perfetto sparagliamo anche quest'altra squad e iniziamo in aree stabili come sempre ok e adesso utilizziamo la nostra mossa e questa mossa qua praticamente ci copre dai proiettili e fa sì che non veniamo colpiti e chi è nel raggio d'azione non venga colpito adesso attacchiamo l'avversario e un po lentino però ce l'abbiamo fatta dura anche un po perfetto conquistiamo questa base prendiamo anche questi li portiamo qua contro al selezioniamo tutti contro l'uno li registriamo sul tasto numero uno poverini è stato un massacro ok vediamo se allora facciamo così f6 ci prendiamo la cura con il nostro eroso e adesso furtivamente passeremo da qui senza farci notare alla lol ma perché quelli sono passati di lì vabbè 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 fanno pure quello che vogliono ok peccato vabbè a questo punto andate a curarvi no vabbè devono curarsi gli altri invece apriamo di la strada facciamo un bel salto qui perfetto e adesso ci divertiamo ma sono di pugni e mazzate liberiamo la strada grazie ci curiamo non ne avevamo tanto bisogno ma lo facciamo apriamo la strada a tutti quanti contro la skill aspettiamo che i nostri alleati arrivino e facciamo un po di piazza pulita nel frattempo stanno per a perché sono mille vabbè non è un problema sono arrivati i nostri inforzi grande ce l'abbiamo fatto perfetto io ho fatto io ho fatto questo dopo che io ho fatto tutto il lavoro e tu dovresti lavorare noi non saremmo in questo messo se non fosse per il vostro plan di perdere ma io sono scopo tu mi ha fatto un grande guerrero uno che può spettare la strada di Varlok e io lo chiedo per il vostro scopo se non c'è qualcosa per te boss oh, io ho costruito una piazza, certo? ma abbiamo bisogno di un camp proprio per cominciare prima, capisci al punto di risultato ok, mi piace questa cosa wow, che bellissimo qui, qui, qui ti ho bisogno costruite una piazza di ragazzi giù 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 allora costruiamoci la nostra prima base selezioniamo i costruttori costruzione alla Q ah, sorry prima andiamo oh, ok, giusto sposta all'interno del raggio per conquistare ah, scusa hai ragione, scusate, scusate vabbè, ci andiamo con lui, dai anzi, noi potremmo curarlo e andare con lui nel frattempo così lui si cura vicino alla base e con l'oro ne conquistiamo questo punto qui questo qua ci serve per recuperare per recuperare materiali ed energia è un estrattore diciamo una specie di miniera perfetto infatti iniziamo a ad aumentare il tutto una volta fatto questo possiamo costruire la capanna dei ragazzi ok, la metteremo qui adesso i nostri costruttori inizieranno a costruirla è veramente spettacolare come viene in su dal terreno come si costruisce come è anche spettacolare vedere la base molto steampunk curata nei minimi particolari mi piace veramente tanto allora questi mili qua beh, ce li mettiamo qua perfetto grande adesso questi costruttori li teniamo qua tu fai razzia e costruire e costruiremo un generatore delle risorse e incominciamo nel frattempo a generare truppe selezioniamo il punto di spawn delle truppe il punto di raccolta e generiamo un po' di separa tutto grande questo qua è il tempo per il respawn dei detriti dei materiali che spuntano qui che con questi possiamo raccoglierli sono i rottami perfetto no voi dovete stare qua grande e direi di fabbricarne un altro e dopo di questo direi che possiamo partire e ad avanzare e incominciare a vedere cosa ci aspetta eccoli qua contro left click selezioniamo tutte le truppe uguali quindi diciamo che questi saranno la seconda e questa è la terza unità quindi abbiamo tutti i fucilieri prendiamo l'ultima risorsa di rottami con questi tutti quanti sono la squadra numero uno e partiamo partiamo in modalità offensiva con la selezioniamo il punto loro cammino in modalità offensiva in modo tale che se incontrano un nemico attaccano ok adesso dobbiamo coprirli sono molto più veloci di me però in teoria dovremmo farcele per ne e perderne pochi il wag quindi adesso siamo cattivissimi perfetto e molto più veloci e ne approfittiamo per sgominare i nemici e conquistare quel punto ecco eccoli qua vediamo se riusciamo a fare anche questo atto sarebbe carinissimo me lo fa? no peccato si ahhh che brutto è stato un epic fail quello lì sto giocando malissimo praticamente a questo punto ne sfruttiamo questo questo momento e uccidiamo tutti vediamo se riusciamo a uccidere gli ultimi questi qua da dove spuntano? ok ce l'abbiamo quasi fatta eh oh ce n'è uno qui poverino uno e due mmmm potevamo fare molto molto meglio diciamo che potevamo fare molto ma molto meglio va bene ma va bene così tranquilli tranquilli dobbiamo recuperarle allora tu mentre loro conquistano la fortezza noi conquistiamo anche questo perché ah qui c'è una cosa brutta però perché ne è rimasto una una cosa non è tanto bella nel frattempo ok tutti i curi qui c'è un rottame lo raccogliamo così dovremmo completare scusa fuori uno lo rimandiamo qui a perlustrare loro lui poraccio è rimasto l'unico i costruttori li facciamo venire qua esatto bello questo non lo può raccogliere cacchio non lo può raccogliere peccato andiamo loro si loro si ok mi fa tempo vai qui a perlustrare a vedere cosa c'è da sopra non ho capito cosa è successo stavo guardando un'altra cosa non ho capito cosa è successo ah qua ci sono dei ok voi dovete costruire un punto qua questa cura ci voleva come il pane nel frattempo andiamo alla nostra base non c'è un tasto veloce sapete se c'è un tasto veloce per richiamare la baracca sarebbe molto molto comodo punto di spawn lo settiamo dobbiamo andare di la quindi lo settiamo qui generiamo un po' di alleati che giro stanno facendo ma fanno tutto il giro così e voi ma basta dove vanno? qua ok siamo pronti per ripartire abbiamo tutte le truppe alcuni sono un po' malandati malconci ma ce la faremo stiamo attenti a chi incontriamo c'è una torretta ci riuniamo ok ed avanziamo coprendo i nostri alleati ok ok abbiamo il bug quindi ci divertiamo e qua ci dobbiamo andare con lui per forza grande vai distruggete tutto però voi dovete attaccare loro nel frattempo con lui però potevo prendermi la cura con loro loro ci vanno a curare noi andiamo qui qui selezioniamo la nostra baracca punto di raccolta è questo e ci facciamo un po' di truppe nel frattempo lui sta conquistando quindi direi di andare a prendere i nostri costruttori i nostri costruttori e portarli qua nel frattempo voi perlustrate qua davanti perchè non vedo eh esatto infatti immaginavo che non era sicuro questo ponte qualcuno qualcuno ci doveva essere grande bellissimo mi ha preso una martellata mi ha fatto tantissimo male perfetto nel frattempo che aspettiamo le altre truppe andiamo aspetta aspetta andiamo a prendere i rottami mi devo ricordare sempre dei rottami perchè lo dimentico lo dimentico mannaggia ok qui stanno facendo il giro stanno arrivando gli sparatutto e anche i nostri costruttori che dovranno subito costruire no non si può fare solo questo va bene siamo a un punto d'ascolto e sarebbe carino vuol dire che io posso farli anche da qua invece di farli arrivare da lì mi sa di sì questa cosa io non la sapevo cioè nel senso io posso fare che metto il punto qui si e generolo da qui si cioè se è così è stupendo perchè non devo farli arrivare da qua io da qua sotto ok voi avete finito e tornate alla base e adesso vediamo se io non li vedo uscire da qui però eh lo sono si lo scopriamo e lo scopriamo e lo scopriamo aiutare ma non qualcosa che mi genera vediamo Eh no Non me li sta generando Vabbè Aspettiamo anche questi Andiamo Ok vai all'attacco Ma Wait Mancava lui Stavo partendo senza il protagonista Ok partiamo Panteria a distanza Spara tutto Non c'erano le molotov Beh già ci aspettavano In teoria dovremmo ucciderli abbastanza in fretta E adesso Questi tre Via Faranno una brutta fine Ma questi sono spuntati adesso Ma cosa c'è qua sopra? Qualche cura Sì la cura è buona Mi piace la cura Curiamoci C'è anche i rottami Ci sono Prendiamo i rottami Ma prendiamoli così Perché Secondo me qua O qui c'è ancora qualcuno Infatti Infatti Allora Allora Ehm Ok Ehm Prendiamo questi Grande Adesso avanziamo Però Guardate aspettare un attimo che arrivavo Questi Questi si stanno suicidando Perché ho sbagliato Però possiamo recuperare così Ancora è vivo Non riesco ad uccidere Immortale Highlander Highlander Grande Ancora C'è proprio Ehm Onestamente Conquistarla Non ci serve Non ci serve Scappano Scappano Beh ci difendiamo E nel frattempo Sdereniamo tutti Sdereniamo Nel frattempo Uccidiamo Tutti Ci copriamo C'è un portale Che dobbiamo distruggere Sono un po' Duri a morire Sono un po' Messo male Scappa Andiamo Andiamo a uccidere Anche questi Dovrebbero essere nascosti Qui Infatti Ok Prendiamo ciò che dobbiamo Prendiamo ciò che dobbiamo Prendere Abbiamo preso qualcosa Ok Nel frattempo Andiamo qui Settiamo E Aspettiamo altre truppe Possiamo scendere No No Ma io ho visto No Ma io ho visto aprirsi qua sotto Qua c'è la nave spaziale Eh si Aspettiamo che arrivano gli altri Nel frattempo Andiamo a prendere Quello Arrazziamo I rottami Una cura Ci sta da dio Prendi la cura Ok Rottami E aspettiamo le truppe Aspettiamo le truppe Qui